E allora, gli autonoma non sei? Si può comodare? Buonasera, piacere, piacere, piacere. Buonasera, mi chiamo Catarina, ho 43 anni e vivo a Poltano. Ah, Catarina, con tanto, quindi riguarda le città lei, eh? Posso sapere il cognome, io lo so, è lui. Il cognome è Fondruca, o ben, Fondruca. Ah, che serve? Buonissimo. Fondruca. Buonasera, la signora Catarina, che buona. E ora la signora Catarina. Buonasera, la signora Catarina.